Ciao a tutti ragazzi, bentornati da Eurokai Oggi riprendiamo la nostra storia con Nina Last Stop Avevamo visto già il capitolo primo Che ci fa il riassunto Ok Siamo nei panni di una donna Che ha una certa importanza E influenza lavorativa Che fa Le corna al marito Infedele infatti Vado per cambiare Ha un figlio che trascura Perché lavora troppo Ah ora vediamo il padre La traditrice La non tradisce solo il marito Mi sa Ehm No, sorry But hey Maybe when you overthrow the government You can have me thrown in the gulag That might cheer you up All I see in the news these days is robots Robots killing people Robots taking jobs Robots having sex Padre Represento You know in my day we'd have balloted If someone tried to give a job to a bloody robot Strong industrial action Is what we need Ehm Tutta l'idea sana Facciamo una passeggiata dai Magari si calma Nene È un bel ingazzatello Ehm Psicologia inversa Non usare mezzi termini No Nostro padre Perché dobbiamo prendere per il culo Hmm Well Non doddle Lidon Perché non vedo mai le mie tovote Per il suo bene Perché dobbiamo dare risposte di cui Non possiamo capire Senso Senso Crede se che mi metti in testa Non lo facesse Però che bel posto Non c'è il corte Non c'è il verde Ci sono Queste casette simpatiche Mi piace Resto o sinistro Dovete andare Sinistro I piccioni Volano se ci vado Allora se volano Sono fin Here you go comrades Get your beaks around this Manky old bread Voglio chiederti una cosa I call these two Tony and Alastair Manky old bear Ed è basta Come mamma avete mai avuto Una relazione Estremiugale Penso di no In realtà matrimoniale Immaginavo Bello in tutto Da quello che abbiamo capito La madre di lei Non c'è più Che fortuna Vabbè ora i ricordi Pristi Lagrime virili Andare avanti Andare avanti Non c'è più Non c'è più Ma vabbè Vabbè non mi hanno fatto arrivare ma ok Meglio così Giulia è venuto qui l'altro giorno Shai? Giulia dal club del libro Inoltre, stava cercando mi sponso un po' di ascoltare un po' di una piazza in Sud America Potete creare una città? Che cosa è ascoltare una montagna, non solo via la via all'Argentina Che cazzo sta parlando questo? Sanno bene e la scuola in giro Non ho capito niente Chi pensano che sono? È un insulto, per essere sincero E se vuoi una scuola, puoi avere un weekend in Wales come il resto di noi Una Due Cosa se ne mette? Tre Quattro Vespa Sto facendo Bella madonna Ok L'altra no L'altra no Questa è roba coppacazzo Edificio di sposto, grande finestra Questa è oscurata Accettabile E io ci ho perso più tempo per leggere Questa è una serra Questa è una serra Una parola E il cazzo dice... Questo è fatto Il suo nome, padre Si chiamava Spida Era molto facile da trovare L'ho guardato online nella biblioteca Qui, scrivo il suo numero Il suo telefono Il marito? Ah no Vabbè, questi si sono scritti per una settimana Tuzzi così risoluta Ma non so in che... Ah ok, in modo positivo Vabbè Eeeh Tornerò I'll come back and check on you soon Don't do any more of that junk Oh Yes, yes, child, leave me be Questa c'ha... Vabbè, non se ne salva uno in questa famiglia C'è il padre pippomane Cioè noi... E noi andiamo a fare... A divertirci con Toy Boy Ok E poi andiamo da nostro marito Cosa c'è questo? Cosa c'è questo? Aspetta Ah, è la figlia Ha la stessa nivò Aspetta, aspetta, aspetta E' ok, non ci sei in problema E' solo una amica di padre E' un amico di padre E' lo so, chi sei Oh, buono E' lì? 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 Sono riconvenibile Questa è un pirla pure però Eh, direi cazzo Oh ma scusa ma meglio forse no ma non pensavo in quel modo questa è malata però è malata forte quando ragno a lo spacciatore il tuo nome è il suo piacere di conoscerti analizza il suo gioco c'è giorno che cazzo devo fare ma qua quando aspettavo l'autobus che l'aveva fatto tardi al lavoro vediamo ok ci ha dato appuntamento al vicolo andiamo subito al vicolo ok si quindi comunque abitano tutti nella stessa città perfetto va bene rispetto a sto scusa il telefono che cazzo vuol dire dovrebbe essere una cosa lunga quanto ci metterai? mezz'ora? ok ti possiamo aspettare se vuoi quello mangiare assieme come una mia almeno se riuscire a essere si diamo che gli falsa speranza facciamo capire che sua moglie è una merda ma che non preoccupare faremo spuntino nel frattempo dopo e questo è un bravo uomo sembra suo marito sei una stronza cioè lo lascia se proprio è così devo andare con altro uh e eh yeah we doing business or what? ish Ok, fermi e prendi attenzione. Hai fatto una buona ruota, hai fatto un po' di money, ma sei finito. Non sarai più di più di questa roba qui. E se apprende così, sarò freddo. Che cosa? E' un po' di più. Un po' di più lentamente, Spider. Allora, veniamo. Mamma bella. Questa è sbagliata. Venga, addirittura, porco due. Ma non è ilmetro. Normalmente. Non sia. Non sia. Alla ventana. E ho fatto la ghiottina Eh si E già Cattivone Segui le mie stagioni Ora lo sotomizziamo a questo Perché lei è una pervertita Improvviso E pazzo La donna spauracchio Però cattiva Beh io ovviamente Non la sto giocando come Penso Che lei sia Sembra una dura Una Al carattere forte E qua dall'espressione Cazzo No ok Che ha fatto? Si è calata un attimo Sul marciapiede Allora Se non mi irritavo Tiene di spacco La teata La testa Chega con lui Minaccia seria Polizia E grammaticale Mai Ma è La casa Qua Eh penso che abbiamo perso mezz'ora No? Era già notte Potrei Che Faci diverti Con i vostri attività Extracurricular Ah Allora Ah il padre ha dubbi Cosa è incazzato lui? O no? Tu sai che il padre era un eccellente rock climber back in the day L'amatore Adesso sappiamo che lui che cosa ha fatto Una storia per un'altra mattina Ora, vieni, a dormire Oh, veramente? Però vi fai finire il piatto, scusa La porto su Ma che dopo Ce la dobbiamo vedere con il nostro marito Eeeh Ascolto sua madre Ah, lui non voleva andare con noi Chissà se avessimo insistito Eh, comportiamoci come se fosse lei a rispondere a questo punto Allora, sei cretino, scusa Domani Tra l'altro l'ho notato che quando c'è il telefono dalla tasca e lo usa A volte lo mette al contrario Qui è dove lavora lei, credo Da queste cose robotiche Sì, dove abbiamo fatto anche il colloquio Questo che è? Ah, il capo Cioè il nostro superiore Però ottimo, ancora viene proposto Oh, sì Posso assurare che questo significa che ho ottenuto il lavoro? Non davvero ancora Oh, sì Oh, sì Io vorrei dare a Emi un ruolo Siamo fare un ruolo di intervii Solo due di loro Oh, come on Sono scusate, signore Ma ho avuto un ruolo difficile per capire Perché è necessario Questo è un ruolo Questo è un ruolo grande per me C'è una storia personalizzata a questo E lei è una persona 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 Da questa questione in solito Quando ti sono mai mai segnati? Non so Non mi ha preoccupato di una piccola competizione Ok, lei Eccolo che voleva lui ma Va bene va bene Ok ragazzi è finita Riprendiamo nel prossimo episodio Con Don A presto Ciao ciao